Il 2019 a Controguerra inizia con una nuova iniziativa, un'iniziativa importante, interessante con lo scenario dell'Enoteca Comunale di Controguerra. Sì, devo dire che ripartiamo con un evento veramente molto importante e molto impegnativo. Abbiamo ospite presso l'Enoteca Comunale di Controguerra, venerdì prossimo 25 gennaio alle ore 18, Francesco Paola Valentini, appunto un personaggio del mondo del vino che ha fatto grande e ha dato lustro alla nostra regione. Quindi tema centrale ovviamente rimane sempre la regione Abruzzo e ovviamente i vini abruzzesi. E in questo caso avremo come ospite per la seconda edizione di Vignaioli di Professione Francesco Paola Valentini che in quel frangente, in questa iniziativa, verrà intervistato dal docente della Fondazione Italiana Sommelier, giornalista ex della prova del cuoco, Paolo Lauciani, Sommelier appunto a noi molto caro che frequenta Controguerra da ormai più di dieci anni, che appunto condurrà questa iniziativa con un'intervista fatta a Francesco Paola Valentini e a suo figlio Gabriele Valentini. Un'intervista che sarà molto articolata, molto interessante perché come ben sapete e come ben sanno gli amanti del settore vitivinicolo, Francesco Paola Valentini non è dedito a questo tipo di iniziative di carattere pubblico, quindi è veramente qualcosa di molto molto particolare e molto importante. Durante questa iniziativa avremo in degustazione due annate storiche dell'azienda Valentini, un Trebbiano 2010 e un Montepulciano 2001, quindi insomma è un arricchimento a questo momento molto importante che appunto vedrà protagonista Controguerra, il suo centro storico e l'Enoteca Comunale di Controguerra. Ricordiamo allora Vigna Ioli di professione che si svolgerà? Si svolgerà presso l'Enoteca Comunale venerdì 25 di gennaio alle ore 18. È il secondo appuntamento perché il primo appuntamento lo abbiamo appunto battezzato lo scorso anno con un altro evento che è stato veramente molto importante, è quella di un'intervista fatta da Paolo Luciani a tre giganti del mondo del vino abruzzese, Emilio Pepe, Dino Illuminati e Camillo Montori. Quest'anno appunto riproponiamo la seconda edizione e penso che ci manteniamo su un livello di qualità veramente molto 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 elevato, quindi chi parteciperà a questo evento sarà veramente molto fortunato.